Oggi, cari fratelli e care sorelle, desidero condividere con voi una breve riflessione sul versetto 23 del Vangelo di Giovanni nel capitolo 20. Leggiamo prima il testo biblico e poi proverò a dare il pensiero che il Signore ha posto sul mio cuore. Il testo biblico dice, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Letto così questo passo sembra dare un'autorità all'uomo per perdonare i peccati. Infatti dice, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Quindi sembra dare un'autorità all'uomo per poter perdonare i peccati. In realtà noi sappiamo che solo Dio può perdonare i peccati, solo Dio ha il diritto e l'autorità per perdonare i peccati. E allora che cosa significano queste parole scritte nel Vangelo di Giovanni? Si contraddice forse la scrittura? Noi sappiamo benissimo che la scrittura non si contraddice mai. Allora dobbiamo cercare di capire queste parole alla luce della somma della parola di Dio. Se questo passo lo inseriamo nel contesto degli altri Vangeli, cioè Matteo, Marco e Luca, noi vediamo che il Signore Gesù diede un mandato ai Suoi discepoli e il mandato era quello di andare a predicare e insegnare. Ora prendiamo queste parole scritte in Giovanni e inseriamole negli altri Vangeli. Il mandato completo diventa andate, predicate, insegnate, a chi perdonerete sarà perdonato, a chi riterrete i peccati saranno ritenuti. Ora una volta che abbiamo compreso qual è il mandato completo, e questo è un mandato che il Signore non diede solo ai Suoi discepoli, è un mandato che vale anche per noi. Anche noi abbiamo il compito di annunciare il Vangelo e anche a noi il Signore dice a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ora noi sappiamo che non abbiamo il potere di perdonare i peccati, assolutamente. Quindi che cosa significano queste parole del Signore Gesù? Prima di spiegarvi questo concetto vorrei leggere in Atti 26, 16 a 18. Qui il Signore che parla con Paolo e dice alzati e stai in piedi perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, ascoltate bene, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alle luce, dal potere di Satana a Dio e notate cosa dice e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati. Anche questo è un mandato, un mandato che il Signore diede a Paolo e nel dargli questo mandato gli dice io ti mando affinché mediante la tua predicazione si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati. Ecco, qui il Signore comincia a fare già un po' di luce riguardo a Giovanni 20, 23. Qui si parla di perdono dei peccati, un perdono dei peccati che può avvenire mediante la conversione, mediante la fede in Cristo. Quindi cerchiamo di mettere insieme adesso un po' quello che abbiamo letto in Giovanni, quello che leggiamo negli altri Vangeli e quello che abbiamo letto in Atti. Che cosa significa? Qual è il mandato completo a questo punto? Perché si completa anche con queste parole il mandato. Il mandato è andate, predicate, annunciate il Vangelo, annunciate il Vangelo affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati. Ebbene, qua il Signore Gesù ci sta dicendo, come dicevo poco fa, che il mezzo per ottenere il perdono è la fede e la conversione. E allora queste parole che il Signore disse a Paolo e quelle che disse ai suoi discepoli ci stanno dicendo che noi, noi abbiamo l'autorità non per perdonare i peccati, ma per confermare il perdono dei peccati. Perché dico questo? Perché quando noi annunciamo il Vangelo e una persona riceve Cristo, che cosa gli diciamo a quella persona noi? Noi gli diciamo i tuoi peccati sono stati perdonati, quindi non stiamo perdonando i peccati, stiamo confermando l'avvenuto perdono. Questa è l'autorità che il Signore ci ha dato, ma non perché li perdoniamo noi, perché loro, mediante la conversione, rileggiamo atti, affinché si convertano. Vedete la via è la conversione dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevono per la fede in me il perdono dei peccati. Quindi quando noi annunciamo il Vangelo succede questo, la persona che è davanti a noi lo riceve. Nel momento in cui la persona che ha ascoltato il Vangelo riceve Cristo, riceve il perdono dei peccati, lo dice il Signore qui in Atti. Ed è in quel momento lì che noi, mediante la parola di Dio, che è la somma autorità, possiamo confermare a quella persona di essere stata perdonata. Quando qualcuno accetta il Signore noi gli diciamo, come ci è stato detto anche a noi, il Signore ti ha perdonato tutti i tuoi peccati. Ecco, stiamo confermando l'avvenuto perdono. Non è che li stiamo perdonando, stiamo confermando quello che il Signore dice nella sua parola. Guarda, tu che hai accettato il Signore, puoi stare tranquillo, i tuoi peccati sono stati perdonati. Questo è il significato di Giovanni 20, 23. Viceversa, se una persona rifiuta di ricevere Cristo, noi cosa gli diciamo? Gli diciamo, caro amico, mi dispiace, ma se non ricevi Cristo, i tuoi peccati non possono essere perdonati. Quindi li stiamo ritenendo, stiamo confermando che quella persona lì è ancora morta nei suoi peccati. E anche questa conferma la diamo perché siamo autorizzati dalla parola di Dio a farlo. Quindi Giovanni 20, 23 sta dicendo che noi, discepoli del Signore, abbiamo un'autorità che ci viene data dalla parola, che è quella di confermare l'avvenuto perdono dei peccati o confermare il non avvenuto perdono dei peccati. Infatti per questo motivo diciamo a chi si ravvede che è salvato e a chi non si ravvede che è perduto. A colui che diciamo il Signore ti ha salvato glielo diciamo in seguito alla conferma del perdono dei peccati. Colui che rifiuta Cristo gli diciamo, mi dispiace amico, non sei salvato. E quindi stiamo dicendo non è salvato perché i suoi peccati non sono stati perdonati, ma non perché abbiamo deciso noi, è perché in base alla scelta che l'uomo farà, ecco, può ricevere o non ricevere il perdono dei peccati. Ed è in questo senso che noi ad alcuni perdoneremo i peccati e ad altri li riterremo. È in questo senso qua che va interpretato questo passo. Perché come abbiamo detto la parola di Dio non si contraddice, quindi noi sappiamo bene che l'unico che ha il diritto per perdonare i peccati, il diritto di perdonare i peccati è il Signore Gesù e lo dice bene in atti qua. Dice affinché ricevano per la fede in me il perdono dei peccati. È la fede in me che dona il perdono dei peccati all'uomo. Se quella fede non c'è, quei peccati vengono ritenuti. E questo è il significato, fratelli e sorelle. Non significa che noi possiamo perdonare i peccati o tantomeno il sacerdote può perdonare il peccato. Significa che la parola di Dio ci autorizza a confermare o meno l'avvenuto perdono dei peccati. Che il Signore benedica la sua parola, che il Signore benedica tutti coloro che ascolteranno questo video messaggio affinché chi ancora non l'ha fatto possa andare a Cristo, riporre la propria fede in Cristo e ricevere per la fede in Lui il perdono dei peccati. Spero di aver spiegato in modo chiaro questi pensieri e spero, come dico sempre, di aver fatto una cosa gradita al nostro Signore. Si è benedetto il suo nome.